Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata dei pronostici di Java e Milu Serma Milu Oggi Java dovrà avere un po' di pazienza perché saranno dei pronostici di coppia Li farà anche Milu, anzi partiremo proprio con lei che dovrà pronosticare il risultato del big match Juventus-Milan A causa di un po' di vento ho dovuto arrangiarmi con questi animaletti di coscio Comunque potete vedere che la scelta è tra Juventus, pareggio e Milan Vediamo prima cosa sceglierà Milu e poi faremo i soliti pronostici di Java Vieni Milu, vieni, vieni, vieni Nooo È arrivato anche Java Allora Milu ha scelto, spostati Java Milu ha scelto il Milan però ragazzi, Milu ha scelto il Milan Java adesso arrivano anche i tuoi E niente Milu ti ha tolto gli altri due, solo uno l'hai potuto mangiare Bene, dopo che Java si è scofanata anche dei croccantini che non erano i suoi È arrivato il suo momento di fare i pronostici Ovviamente per l'occasione sono più grandi Vedete, Java ha dei croccantoni giganti Vediamo cosa sceglierà Pronti, attenti Vai Java, vai Beh niente, lei non si smentisce mai, va sempre sul pareggio Lei va sempre sul pareggio Quindi abbiamo un risultato particolare Milu, laggiù presente, ha scelto la vittoria del Milan Entra Java, ecco chi si è scofanata Prima il pareggio, poi la Juventus E se Dio vuole, forse alla fine andrà a prendere anche il Milan Ma non ne sono così sicuro È concentrata a mangiarsi la Juventus ancora Troppo buona la Juve, vero? Troppo buona la Juve Oh ecco, finalmente alla fine dà un po' di fiducia anche al Milan Cosa ne pensi Java? Milu, è rimasto qualcosa lì? Mi sa che Java ha preso tutto, eh Te che dici? Java Ciao